Allora, chi stile è benzo? Come andrà? Davide Scaliere! Ok, per il primo machine, il price è non solo una batch. Il servizio del leader del gruppo. Il servizio e il servizio del gruppo. Ok? Ok, quindi è tutto per il posto di 7 minuti. Once a day, grazie molto. Grazie.